Ogni tanto, prima di decidere di leggere un libro, guardo se è già postato su YouTube. Di solito cerco di evitare di leggere libri che sono già letti da altri, nel senso che è inutile fare dei doppioni, no? Se un libro è già presente, insomma, è meglio provare a leggerne un altro. Già abbiamo tutta una categoria di libri che non si possono leggere, quelli in cui l'autore è morto da meno di 70 anni, per cui, insomma, soprattutto se si legge un libro intero, insomma, se si fa una lettura integrale di un libro, è meglio non ripetere queste letture, tranne casi particolari, insomma, di libri che un po' si è portati a leggere tutti o che rappresentano qualcosa di particolare per noi, insomma, no? Cioè hanno un particolare significato. Allora magari ti fa piacere anche leggere o dare la tua interpretazione, ma in genere, insomma, preferisco non leggere un libro già letto. Allora sono andato a guardare, mi era lungo in mente, ho sentito parlare un po' delle affinità elettive, perché avevo letto già i dolori del giovane Werther, no? E sono andato a vedere se c'era già stata fatta una lettura in rete, no? E ho trovato una lettura già fatta. Ho trovato un canale che si intitola Audiolibri per Passione. E guardo nelle playlist e vedo che c'è solo questo libro postato, un libro postato, diciamo, per capitoli, quindi ci sono qualcosa come 34 video, ognuno per capitolo, no? Ma di un solo libro. E poi mi chiedo, insomma, come mai? Insomma, no? Si è fermato qua e come mai... Come mai non è andato avanti, insomma, non ha letto qualcos'altro? E vedo che rimanda a Facebook. E su Facebook vado a vedere questa pagina, anche questa un po' intitolata Audiolibri per Passione, e scrive qualcosa come un po' un lamento contro Facebook, no? Che non gli ha dato la monetizzazione, insomma, no? Cioè che ha ristretto un pochino i campi della monetizzazione per poter monetizzare, per poter diventare, diciamo, partner di YouTube. Adesso i prerequisiti sono di avere fatto almeno 4.000 ore di ascolto e di avere almeno 1.000 iscritti. Questo signore non aveva 1.000 iscritti. E quindi si lamentava in qualche modo, no? Con Facebook, per non poter monetizzare, chiedeva anche la sovvenzione al suo canale, come faccio anch'io, insomma, no? Chiedeva un contributo perché questo canale restasse in vita, minacciando eventualmente di chiuderlo. E infatti ho visto che poi questo canale si è fermato là, insomma, no? Non è andato avanti, quindi probabilmente si è ritirato. E penso che questo è successo, succede ad altri che si propongono come narratori. Perché in realtà la mia sensazione è che la vita del narratore qui su YouTube è difficile. Non abbiamo un prodotto che funziona così bene per questo tipo di canale. Perché noi facciamo dei video molto lunghi e che sono spesso poco frequentati, insomma, no? Mentre altri video fanno milioni di visualizzazioni in pochi minuti. La gente passa da un video all'altro e quindi trova e guarda pubblicità man mano che passa da un video all'altro, insomma. Da noi se uno si ferma per ore ad ascoltare un video, e quindi un libro magari lo fa facendo altro, questo magari non va molto bene. E allora pensavo che magari ci si illude, o che questo signore che aveva fatto questo canale audio-libri per passione, in realtà dietro quella passione non c'era proprio una vera passione, ma c'era l'aspettativa di fare qualcosa che potesse avere un rendimento, cioè che potesse avere un riscontro dal punto di vista economico, no? Perché già pensava, con meno di un migliaio di scritti, di monetizzare, già pensava di poter avere, diciamo, di poterne fare un guadagno, con un libro letto, insomma, neanche completamente. E allora, secondo me, aveva fatto i calcoli male, insomma, perché, come dicevo prima, la vita del narratore è difficile. I guadagni, anche quando si è ottenuta la monetizzazione, sono molto, molto, molto scarsi. Siamo sull'ordine, per quello che mi riguarda, di un centinaio di euro, con 25.000 iscritti, insomma. Quindi, questa è la cosa. Ma, non solo con 25.000 iscritti, ma anche con una produzione, diciamo così, abbastanza vasta. Dal punto di vista di YouTube, o se uno pensa di poterne fare un lavoro, una professione, quella del narratore qui su YouTube, beh, forse è meglio che cambi visione, insomma, o che si renda conto che non c'è da vivere a fare questo. Lo si può fare veramente per passione, ma allora, per passione, lo si fa in maniera disinteressata. Nel senso che, se qualcuno magari ti vuole dare un euro di contributo al canale, va bene, ma che ti aspetti da YouTube, a meno che non ti metti a fare altro, non so, che ti metti a investire grosse cifre sulla promozione, o a vendere, che so io, insomma, merchandising, come si chiama, insomma, a trovare delle forme un po' scientifiche, insomma, che se non fai questo, cioè se ti limiti a leggere dei libri, a postare le letture che fai di questi libri, per quanto bene li leggi, per quanto le cose le fai anche in maniera, diciamo, semiprofessionale, che so dire, è molto difficile ricavarne da che vivere, insomma. Quindi lo dico a chi magari ha intenzione di fare questa cosa e magari pensa che facendo questa cosa ne può ricavare un guadagno. Per di più questa cosa è faticosa, richiede un grande impegno, un gran numero di ore di lavoro, quindi per fare questa cosa bisogna anche avere del tempo libero, oppure farlo in maniera professionale e far coincidere quello che si mette qui su YouTube con qualcos'altro che magari si mette da altre parti e che viene acquistato da altre parti. Ma per far questo bisogna avere, appunto, una serie di relazioni, un giro, quindi già essere in una situazione, diciamo, di tipo professionale, non più amatoriale, no? Altrimenti, insomma, o si ha veramente una passione e si sta qua indipendentemente dal guadagno, pensando che il guadagno che si può fare anche una volta che si è raggiunta la possibilità di monetizzare su YouTube serve, diciamo, per pagare la connessione, oppure dopo un po' si crolla, insomma, dopo un po' si chiude. Perché questa cosa, dal punto di vista, diciamo, del guadagno di un corrispettivo economico per quello che si fa, è a volte anche di una gratificazione, se non nel guadagno, di una gratificazione nella visibilità. Si fa molta fatica ad acquisirla, insomma, è molto difficile diventare visibili, insomma, essere guardati, avere visualizzazioni, diciamo, dell'ordine delle decine di migliaia, facendo questa cosa, narrando, a meno che non si trovi qualcosa da narrare che abbia un particolare effetto, insomma, che funzioni su una particolare categoria di persone, quindi magari sulle persone che usano di più la rete, i cellulari, gli iPhone, che so io. Però, cioè, valutando la mia esperienza, mi rendo conto che è molto difficile raggiungere una visibilità, ma anche, insomma, la gente, per esempio, insomma, come ho già detto, il mio canale lo trova per caso. È molto difficile che la gente arrivi indirizzata qui. Magari qualcuno cerca, siccome ci sono tanti titoli, magari uno, facendo una ricerca, si imbatte per caso in uno dei miei video. Poi magari gli piace, ci resta e si affeziona. Però anche YouTube non propone più di tanto, insomma, perché probabilmente non gli conviene proporre questi contenuti. E nello stesso tempo perché non gli ho mai dato soldi per farlo. L'aspettativa può essere veramente la soddisfazione di una passione, ma allora questa passione deve esserci, deve rimanere, non deve nascondere qualcos'altro. Dopodiché questa passione si può realizzare se c'è il tempo, perché fare questo richiede molto tempo. Qualcuno mi ha chiesto, ma quante ore ci stai qui a leggere, insomma, a fare questo lavoro? Io tendo a sfuggire questa domanda, dico tante, perché sono in realtà tante. Mi vergogno a dire quante, ma sono tante. Per me è possibile farlo perché, da questo punto di vista, ho una situazione privilegiata. Io sono in pensione e quindi ho del tempo che posso dedicare. Non ho nipoti per casa, il mio tempo libero lo posso dedicare a una passione. Non aspettandomi più di tanto da questo, al massimo, diciamo, la compensazione delle spese che è necessario comunque fare per fare questa cosa in maniera dignitosa. Libri bisogna comprarli, per esempio, no? Ed è una cosa che rientra un po' nel budget di investimento che, se si vuole fare questa attività, non la chiamiamo un lavoro. Quindi ci vuole tempo e poi ci vuole costanza. Si cresce molto lentamente, soprattutto agli inizi o quando non ti vede nessuno. E quindi la costanza vuol dire fare questa cosa tutti i giorni, compreso il sabato, compreso la domenica, tranne quei pochi momenti in cui magari si viaggia o si allontani, ma ogni giorno, per ora, stare qui e fare questa cosa, soprattutto se sei da soli. Quindi leggere finché la bocca ti si asciuga, finché non hai più saliva o finché ne hai troppa. E poi fare tutto questo lavoro di pazienza, di riascoltare, di correggere, di pulire. E poi tutto quello che ci va dietro, postare, elaborare i file, aspettare tutti i tempi, scegliere le foto, mettere i titoli, tante cose. Insomma, usare i programmi e poi tutti gli inconvenienti che man mano succedono, perché devi trovare quella cosa e non sai più dove l'hai messa a salvare il materiale. Insomma, c'è tutta un'attività di contorno che è molto, che richiede molto tempo. Magari è anche divertente da fare in un certo modo. Sono i programmi che bisogna aggiornare, cambiare, comprare, insomma, tante cose. Per fare questo ci vuole appunto il tempo e la costanza. Soltanto se si ha molta costanza per fare questo si riesce a sopravvivere, a tenere duro. E poi sapendo anche che probabilmente YouTube non è la piattaforma più adatta per proporre questo tipo di materiale, per proporre gli audiolibri. Quindi ci sono probabilmente altre piattaforme, ma più convenienti, non lo so, che sono più adatte alla fruizione poi, soprattutto attraverso ormai, insomma, attraverso il cellulare, insomma, attraverso il telefonino che si fanno di questo prodotto. Io però, tutto sommato, continuo a rimanere qua. Cioè, ho scelto questo luogo e rimango qui. Le mie cose le metto qui. Fino adesso, ecco, voi ormai siete in 25.000 iscritti, farò un video, insomma, nel momento in cui supereremo questo traguardo, insomma, questa meta, speriamo parziale, ma insomma, non ci manca molto, ci dovrebbe mancare, stando alla media delle iscrizioni, insomma, meno di un mese. Quindi, prima di Pasqua faremo un video per celebrare i 25.000 iscritti. Però, questi 25.000 iscritti, voi che vi siete iscritti, alcuni si sono anche tolti, ovviamente, ma quelli che si sono iscritti e che rimangono, lo sono perché sono il frutto di un lavoro costante, metodico, giornaliero, fatto, poi, anche legato al fatto di scegliere testi, no? Di mettere alla prova. Amerei anche leggere la Divina Commedia per intero. ci avevo provato, l'avevo letta, avevo letto tutto l'inferno e metà purgatorio, qualcosa del paradiso. Adesso la potrei leggere un po' meglio, almeno dal punto di vista anche del risultato audio. No, l'attrezzatura è un po' migliorata, non so se ve ne siete accorti, ma insomma, un po' sì. Però, insomma, ho provato a leggere i primi cinque canti, ottengono dei mie piace, ma arrivano a 50 visualizzazioni. Se voi non guardate le cose, io mi scoraggio nel farle, cioè non posso leggere un'opera come la Divina Commedia, insomma, che impegna anche perché per forza ti devi confrontare poi con letture molto più grandi delle tue, no? Gassman, bene, ci so io, insomma. Ci vuole rigore anche, insomma, ci vuole un certo studio, insomma, una certa... soprattutto anche un controllo, perché le parole poi sono molto... insomma, ci sono degli arcaismi, insomma, bisogna stare attenti a ogni sillaba e poi bisogna cercare la musicalità, il metro e così via. Allora, un lavoro di questo tipo, se poi lo guardano 50 persone, non è soddisfacente farlo, no? Non è gratificante. Allora i primi cinque canti della Divina Commedia che ho messo là resteranno cinque se le visualizzazioni sono queste, insomma, se non arrivano neanche all'ordine del 200, insomma. No, vuol dire che non interessa, ma se non interessa è inutile insistere. Ecco, l'esperienza ti fa fare anche questo, per cui ogni tanto io provo anche degli autori, insomma, in questo canale, cerco di vedere anche se quegli autori hanno un riscontro da parte vostra. Ho visto, per esempio, che Maupassant vi interessa, vi piace, insomma, viene guardato volentieri, insomma. Un racconto di Maupassant, poi una cosa breve si fruisce rapidamente e non tutti, ce ne sono anche di lunghi, però, insomma, molti sono breve, nell'ordine di un quarto d'ora e quindi si riescono a fruire in qualsiasi situazione. Uno arriva dall'inizio alla fine, se lo gode, sono anche divertenti da raccontare, sono belli, affrontano tutte le, come dire, tutte le sfaccettature della vita, Maupassant è un grande narratore, uno dei più grandi nel mondo del racconto e quindi, insomma, con Maupassant continuo, insomma, ecco, lì c'è un po' un incoraggiamento a continuare, anche da parte vostra, no? I vostri commenti sono lusinghieri, vedo che piace l'autore, piace anche la lettura e quindi Maupassant va avanti. Per fortuna ne ha scritti tanti, ne ha scritti 300 circa di racconti, anche di vari argomenti, insomma, affronta vari aspetti, no? Varie situazioni della vita e quindi lì c'è ancora materiale, quindi andrò avanti con Maupassant. Un risultato, insomma, che ho raggiunto, che trovate in questo canale, perché poi non credo che altri canali vi diano questa cosa, è quello che sono arrivato, non ho ancora postato fino a dove sono arrivato, ma sono arrivato con i miserabili a leggere, diciamo, integralmente il primo volume. Tanto per darvi un'idea, il primo volume ha questa dimensione e le pagine sono scritte in questo modo. Tante pagine che abbiamo letto, sono tante ore di lettura e sono arrivato a leggere l'intero primo volume che comprende, diciamo, il romanzo è articolato in cinque parti, ogni parte è formata da tanti libri, in media sette, otto libri, alcuni di dimensioni abbastanza ridotte, mezz'ora, un'ora, l'ultimo libro che ho letto è invece lungo tre ore e mezza. I miserabili, sono partito cercando di vedere cosa sarebbe successo, ma non sicuro che sarei andato molto avanti, e invece, diciamo, è superata la metà, misurandolo in percentuale al 58% delle letture i miserabili. Quindi spero in un tempo giusto di riuscire a finirlo. Nelle prossime settimane finirò di postare tutti i libri della terza parte, poi rimane la quarta e la quinta parte da leggere. E un po' alla volta arriveremo alla fine. Ecco, per l'intero i fratelli Karamazov, per l'intero delitto e castigo, per l'intero i demoni, per l'intero l'idiota di Dostoevsky. Ecco, insomma, libri di queste dimensioni difficilmente troverete chi li legge su YouTube. Ma per leggere questi ci vuole una grande pazienza, una grande costanza, perché poi il materiale bisogna anche organizzarlo, renderlo disponibile, quindi metterlo in modo che si possa trovare e non perderlo noi stessi nei meandri dei file che poi di volta in volta si fanno. Vabbè, i promessi sfoggi invece sono stati letti e non so se molti hanno letto Moby Dick, per esempio. Questi sono grossi romanzi che richiedono una grande pazienza e quindi una grande costanza e quindi un gran lavoro. Poi c'è la scelta insomma un po' di questo canale legata soprattutto ai classici insomma, no? Alla letteratura diciamo non tanto di svago ma quella letteratura che fa pensare. A proposito, mi sono dimenticato di dirvi dicendovi dei miserabili che sono organizzati in un certo modo cioè vi ho detto che sono divisi in parti, cinque parti per cui la prima parte contiene video che sono numerati dallo 0 al 10 la seconda parte contiene video che sono numerati dal 10 al 20 la terza parte video che sono numerati dal 20 al 30 per cui se trovate un salto cioè se si passa per esempio dal 18 al 21 non è che mancano video è che ho cercato di rispettare per cui il criterio che ogni decina contiene una parte quindi in ogni decina ci sono i libri che sono contenuti in una parte se trovate un salto nella numerazione non preoccupatevi insomma guardate pure l'indice non manca niente fino adesso i miserabili sono letti integralmente poi tra l'altro un'altra cosa che non troverete letta in nessun'altra parte è un capolavoro della letteratura del novecento insomma che è l'uomo senza qualità di Musil e anche con quest'opera che che è composta di circa 1800 pagine e una scrittura fittissima vi garantisco almeno nei due volumi dell'edizione e in Audi bene di queste 1800 pagine ho visto che ne ho letto il 25% quindi insomma un po' alla volta ma stiamo andando avanti il 25% di 1800 è una buona mole di di materiale che riguarda questo libro quindi insomma già comincia a esserci qualcosa per cui se si diciamo perché ancora non non l'ha affrontato se lo prende dall'inizio insomma ha qualcosa che dalla quale si può rendere conto del contenuto e della bellezza di questo chiamiamolo romanzo insomma di questo libro questo capolavoro insomma grandissimo anzi l'ultima parte che ho letto e che ho postato diciamo che va dal numero 59 al 61 ve lo consiglio insomma è particolarmente bello insomma è particolarmente importante nel guardatelo insomma ascoltatelo oppure leggetevi quei quei paragrafi se avete il libro e poi c'è tutto il resto insomma ci sono tutte le altre cose che questo canale vi offre siccome youtube non aiuta molto insomma ad avere visibilità cioè nel senso a farsi trovare nel motore di ricerca io vi chiederai insomma al di là questa è una cosa che non costa niente ma soprattutto per le cose anche piccole se vi piacciono mi riferisco per esempio ai racconti di Maupassin condividetele se avete Facebook se avete insomma se avete le possibilità se li guardate e vi piace a parte il mettere vi piace o vi piace magari condividetele insomma sulla vostra baccheca insomma fateli girare se piace a voi magari ci sarà anche qualcun altro a cui questa cosa piace insomma quindi vi date anche un'opportunità oltre al fatto di dare a me l'opportunità di rendere questa cosa più più visibile insomma perché dietro la fatica di cui parlavo prima abbiamo bisogno di un minimo di gratificazione no allora le gratificazioni vengono ovviamente dai vostri commenti positivi dal capire che questa cosa vi piace però se si fa una fatica diciamo notevole una fatica anche fisica perché c'è una fatica fisica anche a fare questa cosa si ha anche il piacere di vederla fruita usata la si fa diciamo la si fa per noi per passione come il signore che vi dicevo all'inizio ma diciamo dietro questa passione è anche offrire un qualcosa un prodotto chiamiamolo un prodotto che poi viene visto viene usato che si scambia attraverso questo prodotto no la voce è uno strumento insomma è come se non so chi di voi insomma ma se uno recita in teatro e ha il teatro vuoto beh insomma c'è qualcosa no che passa magari arriva bene alla fine ma è diverso recitare in un teatro pieno in un teatro vuoto no parliamo un concertista no uno che che suona e si trova tra i spettatori ad ascoltare il suo concerto è diverso che non avere teatro pieno magari per lui è lo stesso magari si prende un cachet e quello è uguale sia che il teatro sia pieno ci rimettono magari gli organizzatori di concerto ma non importa è è l'atmosfera che si crea certo dal vivo è ancora diverso ma insomma quando tu suoni in un teatro c'è tanta gente che ti ascolta e questa gente sta in silenzio perché tu insomma riesci a catturarla e ci sono quei momenti in cui diciamo in cui non così viaggia solo la musica sospesa e i momenti in cui c'è questa intesa no che passa tra tra chi suona tra chi offre la musica e chi l'ascolta e sono dei momenti bellissimi per chi per chi suona insomma no per quelli che fanno concerti parlo dei concerti di musica classica non vi sarremo per carità ma insomma sono dei momenti bellissimi che passano però passano quando quando c'è il pubblico insomma no quando le sedie sono vuote e tu suoni suoni anche per te perché poi ti piace ma allora lo fai anche e lo fai anche a casa tua lo fai anche per conto tuo insomma no quando quando fai un qualcosa per cui sei esposto ti metti in mostra ti fa piacere che più persone possono diciamo dialogare con te nella fase dell'ascolto per il concertista è così per uno che fa che narra come cerco di fare io è nell'altro modo insomma è nell'avere la sensazione che che quello che tu fai è visto da più persone possibile insomma se se quello che tu offri è un qualcosa che può dare godimento che può dare piacere a a chi lo utilizza insomma ti fa piacere che questa cosa arrivi arrivi da tante parti insomma arrivi il più lontano possibile perché poi da lontano magari ti arrivano anche commenti e quindi stabilisci delle relazioni insomma virtuali per carità ma è bello insomma quando uno ti dice insomma mi hai fatto compagnia mi sono affezionato alla tua voce ti ascolto prima di addormentarti quando sono in mattina queste cose qua no è bello è bello esserci nella vita delle persone se hai qualcosa di di positivo e di come dire di interessante da offrire insomma qualcosa che magari contribuisce a rendergli più più bella la vita insomma nel piccolo ovviamente per carità ma e quindi insomma se qualcuno gradisce quello che viene fatto nel canale quello che viene proposto dal canale lo condivida lo faccia conoscere insomma qualcuno mi ha scritto che lo fa ma insomma fatelo perché comunque quello che 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 ricevo insomma come feedback spesso è che l'ho scoperto per caso non sapevo che c'era insomma è venuto per caso e quindi vuol dire che diciamo i meccanismi normali di promozione che fa youtube eccetera eccetera per canali come questo non funzionano molto insomma e quindi la visibilità rimane quella che è insomma e io sono solo e tra l'altro non ci so molto fare insomma per la verità nei meccanismi promozionali non ci voglio neanche entrare insomma come ho già detto questo canale è rimasto sostanzialmente come come è nato dieci anni fa la postazione più o meno è quella stessa e tutto è come come allora tranne forse che c'è un microfono un po' un po' migliore perfino la web con cui registro la gran parte dei video è la stessa tranne qualcuno che ho registrato con una telecamera tutto è rimasto così insomma tendo ad essere un conservatore non mi va di innovarmi secondo criteri di mercato tendo a concentrare i miei sforzi se posso nelle proposte che che amo farvi insomma e cerco anche di raccogliere eventualmente suggerimenti che mi arrivano da voi ho cercato anche di leggere chi mi ha proposto qualcosa di suo insomma no mi ho cercato di fare anche qualche piccolo esperimento anche di musica e poesia con il mio amico Aldo Bova così insomma si prova ma sempre diciamo in una in una formula che che rimane e che insomma penso rimarrà perché insomma l'età è quella che è insomma mi rendo conto e quindi le energie anche sono quelle che sono la voce è quella che è non è più quella di un ragazzino no non è più quella di un ragazzo no sento anch'io che quando che quando leggo a lungo poi insomma la voce cala insomma non c'è più la la tenuta di una volta nonostante questo mi pare che il canale abbia sfornato diverso materiale se volete avere anche un elenco di di libri che sono stati letti se se dalla home di questo canale andate sulla sulla piccola icona del del blog c'è un blog dove sono riportati anche un po' di titoli di cose che sono passate nel tempo se poi qualcuno vuole come dire vuole contattarmi per perché non trova più delle cose che c'erano una volta e che non ci sono più la sapete che ho tolto mi contatti pure se posso fargli fargli avere quello che quello che cerca lo farò volentieri mi deve contattare per mail insomma la mia mail la trovate dappertutto continuo continueranno i miserabili poi ci sono tanti tante cose che ancora che sono anche registrate che e che vi riproporrò ovviamente tutto il materiale nuovo quello registrato adesso diciamo ha una qualità audio secondo me migliore insomma adesso è bene ascoltabile le cose che ho registrate in precedenza hanno una qualità audio che è meno buona insomma hanno un po' di rumore metallico perché lo strumento con cui registravo era diverso nonostante questo ci sono delle cose che chiamerei riproporvi magari cercando per quanto possibile di migliorare la qualità audio oppure magari non so cose che sono passate in più video magari concentrarle in un solo in un solo video insomma dandovi alcune cose vecchie ve le riproporrò in quel caso l'audio è meno buono però sono ascoltabili insomma comunque allora se trovate dei video in cui l'audio è meno buono probabilmente sono dei video vecchi quelli nuovi insomma dovrebbero avere un audio più gradevole ecco quindi non è che sono ritornato a peggiorare la qualità dell'audio sono anche abbastanza contento perché ho risolto questo problema che prima un po' mi mi come dire mi dava da pensare facevo tante manovre ma non riuscivo mai a trovare la chiave giusta per per migliorare insomma un po' per rendere accettabile insomma confrontabile con con l'audio che poi normalmente si sente anche nelle letture degli altri insomma allora andiamo avanti con i miserabili perché mi pare che i miserabili siano una cosa che ti comincia a entrare è un romanzo bellissimo insomma regendolo a volte è difficile trattenere la commozione si comincia a diventare vecchi per cui a volte ci si quando ci sono dei momenti particolari si 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 rischia anche di commuoversi insomma ho visto che anche altri non solo io ma anche altri grandi ammettono che in certi momenti ci si commuove insomma quando si commuove vuol dire anche che si ha come dire che si ha del sentimento che si ha un cuore insomma che si ha e quindi i miserabili insomma è uno di questi libri uno di questi libri che in certi momenti riesce a toccarti e riesce a farti vibrare anche le corde vocali non soltanto le corde del cuore detto questo vi saluto un abbraccio a tutti arrivederci grazie a tutti